Ciao a tutti, oggi prepareremo i biscotti di San Valentino. Il tempo di preparazione della ricetta è di 70 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, burro morbido, zucchero, aroma di vaniglia, uova e tuorlo e sale. Diamo il dia alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero semolato. Azioniamo il bimbi per 15 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il burro. Azionare il bimbi per 3 minuti a velocità 3. Aggiungere l'uovo e il tuorlo. Azionare il bimbi per 2 minuti a velocità 3. Aggiungere la farina, il sale, l'aroma di vaniglia. Azionare il bimbi per 2 minuti a velocità 4. Trasferire il composto in una sac à poche con beccuccia stella e formare biscotti. Riporre in frigo per almeno 30 minuti. Trascorsi il tempo abbiamo ripreso i biscotti. cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 13 15 minuti circa. I biscotti sono cotti. Lasciamoli raffreddare completamente prima di glassarli col cioccolato fondente fuso. Trascorsi il tempo i biscotti si sono raffreddati. Abbiamo sciolto a bagnomaria il cioccolato fondente, adesso li glasseremo. Spolverizzare con granella di nocciole o granella di pistacchi. e attendere che indurisca il cioccolato fondente. Biscotti di San Valentino, grazie e alla prossima ricetta! Biscotti di San Valentino, grazie e alla prossima ricetta! Biscotti di San Valentino, grazie e alla prossima ricetta! Biscotti di San Valentino, grazie e alla prossima ricetta!